Abbiamo un team di professionisti per la nostra materia prima. Tutta la nostra materia prima è passata dai test sui metalli pesanti e dai test sui microrganismi. Sono inoltre disponibili confezioni personalizzate per ciglia e fondotinta. Accetta il tuo ordine OEM e ODM. Benvenuto per ottenere i campioni da noi.